In questo numero, per il tumore del seno, meno chemio grazie a test genomico. Ticket per i farmaci a più 40% nel 2012. I pazienti pagano da sé visite ed esami. Il 60% dei pediatri ha sospettato maltrattamenti, ma troppi non denunciano. E ancora, l'osservatorio malattierare premia la buona informazione. L'indagine. Il 97% dei medici britannici ha prescritto un placebo. Accordo in Stato-Regioni sulla Convenzione Intramenia, ma il via tra sei mesi. Il vero o falso di questa settimana parla di melanoma. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Un test genomico che individua il profilo molecolare del tumore al seno in fase precoce e permette cure mirate, con la riduzione di molte chemioterapie inutili. Una possibilità che riguarda un quarto delle pazienti con la malattia in fase iniziale. Un esame diagnostico disponibile anche in Italia, di cui hanno parlato gli esperti di cancro al seno di diversi paesi, riuniti a San Gallen, Svizzera, nei giorni scorsi per confrontarsi sulle cure migliori per il cancro alla mammella allo stadio iniziale. E' questa l'epoca della medicina personalizzata. E questo vale anche per il cancro della mammella. La maggior parte dei casi sono di donne con un tumore a rischio intermedio di recidiva. E noi abbiamo bisogno di capire a quali pazienti somministrare anche la chemioterapia. In molti casi è inutile, perché sono già guarite senza la chemioterapia. In altri casi è necessaria, perché permette loro di guarire dopo l'intervento chirurgico. Il test viene fatto su un piccolo campione di tessuto tumorale prelevato durante l'intervento chirurgico originale e permette di identificare con certezza, in 7-10 giorni, i tumori a bassa probabilità di recidive e di trattarli con la sola terapia ormonale, evitando la chemioterapia. In circa un terzo dei casi si può evitare la chemioterapia. Cioè a dire, sarebbe somministrata senza conoscere il risultato del test e invece viene esclusa sulla base del risultato del test. C'è bisogno quindi di avere dei test che individuino quali sono le pazienti a rischio più elevato e che possono trarre beneficio dalla chemioterapia. L'oncotype, il recurrence core, un mezzo molto diffuso negli Stati Uniti e per ora non molto in Europa, è un test che ci aiuta a fare questo lavoro. Oggi il test in Italia è utilizzato a macchia di leopardo in diversi centri. Può essere proposto a quelle pazienti per le quali è indicato a pagamento, ma in alcuni casi associazioni di malati se ne assumono il carico. Oppure è proposto in sperimentazioni attivate in alcuni ospedali. C'è un appello da parte degli oncologi e da parte delle associazioni delle pazienti perché questo test possa essere considerato e ben chiaro nelle situazioni in cui serve secondo le linee guida anche nel nostro paese. I ticket sui farmaci sono aumentati del 40% nel 2012 e il 55% degli assistiti paga oramai da sé visite specialistiche e accertamenti diagnostici, sia per aggirare le lunghe liste d'attesa, sia perché i ticket sono oramai così alti da spingere verso un privato sempre più low cost. Insomma, tutti i tagli alla sanità alla fine rischiano di ridurre l'offerta di servizi. A lanciare l'allarme gli esperti dell'Università Bocconi con il rapporto Oasi 2012, presentato a Roma dalla Federazione di Asla e Ospedali. Come se non bastasse, per non tingere di rosso i propri bilanci o per evitare disavanzi peggiori, quasi tutte le regioni ripianano i bilanci a suon di tasse. Il disavanzo maggiore lo avrebbe toccato il Lazio con 815 milioni, seguito dalla Sardegna con 283 milioni e il Piemonte con 260. Poi, con gli aumenti delle addizionali IRPEF e di balzelli locali vari, i bilanci sono tornati a tingersi di blu, salvo per Sardegna, Molise, Campania, Calabria e Lazio, l'unica ad aver fatto ricorso anche alla leva fiscale da 792 milioni. E le cose non sono migliorate nel 2012, tanto che per ripianare i deficit di asli e ospedali, in soli due anni i cittadini hanno versato al fisco 5 miliardi in più. Il maltrattamento è il primo reato di cui sono vittime i bambini in Italia. Eppure, non sempre i medici dei piccoli riescono a riconoscere i campanelli d'allarme con cui i bimbi lanciano il loro SOS e troppo spesso i dottori scelgono di tacere per paura di sbagliarsi o perché non sanno come muoversi. Sono i risultati di un'indagine presentata a Milano da Terre des Hommes e Sbam, lo sportello bambino-adolescente maltrattato attivo all'ospedale Mangiagalli, condotta interpellando 1170 medici e pediatri di Milano e Interland. Circa il 66% dei 259 camici bianchi che hanno risposto al questionario ha avuto nel corso della carriera il sospetto di trovarsi di fronte a casi di maltrattamento su minori, ma più della metà dei medici non li ha denunciati perché ritenevano di non avere elementi sufficienti per farlo o perché non sapevano come e a chi segnalarli. Alla Convention Teleton di Riva del Garda, la ricerca scientifica e l'approfondimento giornalistico hanno puntato l'attenzione sulle malattie e i tumori rari. Il convegno è stato anche l'occasione per premiare i vincitori della prima edizione del premio giornalistico OMAR. L'idea del premio è nata dal lavoro quotidiano di Osservatorio Malattie Rare, che è una testata che si occupa in maniera specifica di malattie e tumori rari. Lavorando e dando notizie in chiaro a tutti ci siamo accorti che molti giornalisti venivano a chiederci informazioni, quindi abbiamo stabilito con loro un contatto più stretto e da lì è nata l'idea di premiare quelli che si interessavano di più e che comunque approfondivano più questi temi che ancora non sono molto trattati e quando lo sono non sono trattati in maniera molto approfondita. Nell'ambito della prima edizione il premio Selgin per i tumori rari è stato assegnato a Lidia Scognamiglio, che ha realizzato un servizio per Medicina 33 sul tumore al peritoneo. Questo premio speciale, messo a disposizione da Selgin, leader nel settore delle biotecnologie e fortemente impegnata nel campo delle malattie rare, mostra l'impegno dell'azienda nella cura di questi tumori. Questa opportunità di questo premio dato da Omar ci ha visto entusiasti nel partecipare perché nel panorama farmaceutico globale se c'è un'azienda, una delle poche aziende che hanno interamente devoluto il proprio interesse, la propria ricerca nell'ambito dei tumori rari, questa è Selgin. Un sondaggio eseguito fra i medici del Regno Unito ha rilevato che il 97% ha prescritto trattamenti placebo ai propri pazienti almeno una volta nel corso della propria carriera. C'è da precisare che i camici bianchi hanno consigliato prettamente placebo impuri, definizione in cui rientrano trattamenti la cui efficacia non è provata, come ad esempio quella degli antibiotici per le sospette infezioni virali o anche esami fisici e del sangue non necessari fatti seguire solo per assicurare i pazienti. I placebo puri invece ai quali è ricorso solo il 12% sono vere e proprie pillole di zucchero o iniezioni saline che non contengono principi attivi. L'atteggiamento nei confronti dell'utilizzo del placebo però pare a tra i camici bianchi. Il 66% dice che quelli puri sono eticamente accettabili in determinate circostanze, mentre il 33% afferma che non siano mai accettabili. I placebo impuri sono i più ampiamente accettati, con l'84% dei medici che li promuove. Di contro, sia che si tratti di placebo puri che impuri, oltre il 90% dei medici ne contestano l'uso nel caso in cui possa mettere in pericolo la fiducia fra medico e paziente. Accordo in conferenza Stato-Regioni sulla convenzione tra il professionista e l'azienda sanitaria di appartenenza per la sperimentazione dell'attività intramenia nello studio privato del professionista. Abbiamo espresso, ha spiegato il governatore della Basilicata Vito De Filippo, che ha preso parte alla riunione in rappresentanza delle regioni, un parere favorevole ma condizionato alla richiesta di far partire la sperimentazione tra sei mesi. Un altro punto è quello sulla sanità penitenziaria, con il via libera alla proposta di deliberazione Cipe per il riparto delle risorse per il 2012. È vero che oggi è possibile scoprire melanomi sempre più piccoli? Assolutamente sì, la maggior parte dei melanomi sono melanomi molto piccoli, vengono chiamati sottili e sono molto spesso inferiori a 6 mm di diametro. Questo fa capire come abbiamo delle tecnologie avanzate che ci permettono di fare una diagnosi sempre più precoce. Avere avuto un caso di melanoma in famiglia aumenta il rischio di ammalarsi di questa neoplasia? Vero nella misura in cui lo studio della mappa genica di questo individuo fa vedere che ci sono dei geni alterati e quindi è predisposto maggiormente a sviluppare un melanoma, sì. È in aumento il numero delle persone che si ammalano di melanoma? È vero sì, nel senso che l'incidenza, il numero di pazienti annui cresce, ma cresce per fortuna i pazienti a cui viene diagnosticato un melanoma sempre nella fase più precoce e quindi questo poi alla fine diventa un vantaggio perché all'aumentare dell'incidenza non aumenta la mortalità, anzi diminuisce. Anche se si va in montagna va fatta la prevenzione contro il melanoma? Sicuramente sì perché il sole, specialmente quando porta poi a una ustione, è deleterio quindi anche in montagna può succedere questo e bisogna coprirsi e comunque usare delle creme protettive mai abbronzanti. È vero che sono cambiate le tecniche di lotta al melanoma? Indubbiamente sì perché abbiamo delle metodiche per fare una diagnosi molto più precoce e anche delle terapie molto più avanzate rispetto a prima. È vero che si sono scoperti i geni del melanoma? Una parte sì, cioè alcuni geni che sono spesso causa del processo di iniziazione e poi di sviluppo del melanoma, sì. È vero che esistono terapie più mirate contro il melanoma? Sì, esistono delle terapie cosiddette intelligenti perché si stanno utilizzando attualmente dei vaccini che veicolano le sostanze anzi tumurali contro degli antigeni, delle sostanze che sono soltanto sulla superficie della cellula del melanoma, quindi sono delle pallottole intelligenti. È vero che si può guarire dal melanoma? Assolutamente sì, la battaglia si vince come sempre in tutti i tumori e nella diagnosi precoce. Abbiamo bisogno di un Papa che sappia abbracciare le persone che soffrono, che sappia stringere la mano alla gente. E nel sorriso del nuovo pontefice si legge una persona che di mani sofferenti ne ha strette e che ha sperimentato la fragilità e il dolore anche in prima persona. Filippo Maria Boscia, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, prevede per Papa Francesco un futuro luminoso. Abbraccerà la Chiesa come missione non solo teologica ma di reale vicinanza al popolo e in alcuni gesti, sorrisi e sguardi è contenuto un effetto terapeutico grandioso, sottolinea Boscia. Perché se la medicina può curare il corpo ammalato, precisa, la persona viene curata da quell'afflato speciale che solo alcuni hanno e che questo nuovo Papa dimostra di possedere. Esperti australiani lanciano un'allerta su un nuovo virus pandemico influenzale farmacoresistente. Si tratta di un ceppo derivante da quello dell'influenza suina, ma che ha imparato a schivare l'antivirale Tamiflu e che starebbe emergendo, pur se in maniera sporadica, anche nella popolazione sana. La squadra che l'ha studiato dice che il virus è più agile rispetto agli altri ceppi farmacoresistenti in circolazione e che tutto il mondo dovrebbe prepararsi ad affrontare eventuali focolai. Secondo la BBC News Online, anche alcuni esperti del Regno Unito avrebbero trattato otto casi simili e l'Health Protection Agency starebbe monitorando da vicino la situazione. In barba a studi e segnalazioni, i chili di troppo sembrano avere un effetto positivo. I cardiopatici obesi, infatti, sono meno a rischio di morte prematura rispetto ai malati normopeso. Lo rivela uno studio britannico condotto su oltre 4.400 pazienti, di cui il 31% obesi. Ebbene, per questi il rischio di morte in 7 anni è risultato più basso rispetto ai malati senza chili di troppo. Secondo i ricercatori, a spiegare l'anomalia potrebbe essere il fatto che i medici trattano la cardiopatia in modo molto più aggressivo nel caso di pazienti obesi. Tra dieci anni i casi di tumore del seno aumenteranno del 20%. Stesso aumento è ipotizzabile anche per i tumori della prostata e quelli dell'intestino. È un dato che ci attendiamo perché la popolazione invecchia, aumenta l'età anagrafica dei pazienti e questo vuol dire più probabilità di malattia tumorale, spiega Paolo Pronzato, direttore della divisione di oncologia medica dell'Istituto San Martino di Genova, a margine della 13th St. Gallen International Breast Cancer Conference in Svizzera. In agguato, con l'arrivo della primavera, l'allergia di stagione, che toglie il respiro a più di 4 italiani su 10, è quanto emerge da un'indagine promossa dall'Associazione Nazionale dell'Industria Farmaceutica dell'Automedicazione, secondo cui la comparsa dei primi pollini è di gran lunga il primo evento che scatena i fastidiosi sintomi delle allergie stagionali, quali starnuti, lacrimazione e prurito nasale. E per combatterli, 7 italiani su 10 si affidano ai farmaci di automedicazione acquistabili senza ricetta medica, perché considerati sicuri ed efficaci dall'Autorità Sanitaria Nazionale. La SuperTBC in Europa sta diventando un'emergenza sanitaria e le cure risultano ancora inadeguate. Basti pensare che 78.000 persone si ammalano ogni anno di queste forme di tubercolosi resistenti alle terapie e che meno del 50% dei pazienti con TBC multiresistente viene trattato con successo. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Ufficio regionale OMS per l'Europa e dall'ECDC, lo European Center for Disease Prevention and Control, a pochi giorni della giornata mondiale dedicata alla malattia. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salutechiocciola.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!